Figlio è di Donato? Big G Quanto tempo? Come andiamo? Birretta Lasciami in pace Ascolta, abbiamo bisogno di te Oh, bisogno di te C'è un tipo in città Si fa chiamare Luis Miranda Martinez Riccardo Montoya della Rosa Ramira e sta in Mexico Non mi dice nulla Memoria corta Abbiamo fatto fuori suo cugino una decina d'anni fa Ha in ostaggio lei La figlia del segretario generale delle Nazioni Unite John Little Seven Car Giovanni Settecarrino? Si, lui Dov'è lei? In uno stallo abbandonato a 20 km da Rappi Vento Siamo riusciti a accettarla Avanti Solito lavoro Entri, salvi la ragazza e se vuoi Puoi far saltare tutto Ti piace l'idea? Sono troppo caro Sì, tutto D'accordo Quando cominciamo? Pag controllo Sì, tutto